Una scelta dettata dall'esigenza di cambiamento espressa dai cittadini ortonesi. Così Angelo Di Nardo sulla decisione di appoggiare Ilario Cocciola al ballottaggio del 26 giugno. Un apparentamento fisiologico, lo ha definito Di Nardo, dapprima annunciato sul palco e poi firmato davanti al segretario comunale, che fa sì che le liste di Di Nardo, in quota Fratelli d'Italia e Lega, si colleghino al candidato Cocciola, una parte del centrosinistra, portando, in caso di vittoria, ad avere, per Fratelli d'Italia, un seggio in più. L'accordo apparenta per il ballottaggio due coalizioni che complessivamente al primo turno hanno raggiunto il 56% dei consensi. Ilario Cocciola, sostenuto dalle liste democratici per Ortona, Ortona Popolare, Ortona Coraggiosa, Il Faro, Ortona Cambia, Udc, Ortona Territorio, ha incassato il 35,13% dei consensi. Angelo Di Nardo, il 20,39%, sostenuto dalle liste Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona, Ortona Sociale, Fratelli d'Italia, Ortona Futura. In questo modo, i due candidati, giunti al secondo e al terzo posto nel primo turno, proveranno a battere il sindaco uscente Leo Castiglione. Un accordo storico raggiunto per senso di responsabilità, ha commentato Cocciola, che mette la città di Ortona al centro di tutto, al di là delle storie personali e delle personali visioni politiche. Dall'altra parte, Leo Castiglione, che al primo turno ha riportato il 42,25% dei consensi, ha definito questo accordo fanta politica. Restiamo fedeli e coerenti ai cittadini e alla città, perché abbiamo Ortona nel cuore, il commento sui social. Una scelta, quella di unire le forze, che ha suscitato la reazione del mondo politico abruzzese. Contro ordine e compagni, ce le amo con i camerati, ha postato l'onorevole di Italia Viva Camillo D'Alessandro, che chiama l'ex sindaco di Francavilla Antonio Luciani e Giovanni Legnini a dare risposte. Immediata, quella di Luciani, il quale ribadisce come né PD né Italia Viva abbiano presentato liste a sostegno dei candidati ortonesi e mette altra benzina sul fuoco, affermando come Angelo Di Nardo, con il suo gruppo, possa portare energie positive alle squadre guidata da Ilario Cocciola.